Erba che in alcuni tratti supera i 50 cm, buche che sembrano fossati, specie vegetali di ogni sorta. Un fondocampo che potrebbe compromettere per l'intera stagione i muscoli e articolazioni dei calciatori. A questo bisogna aggiungere le condizioni sicuramente non ottimali di spogliatoi e servizi igienici. Finora, allo stadio Lelio Catella, era stato proprio l'alcamo calcio d'intesa con il comune a tagliare l'erba, regolarizzare la superficie e concimare. Un raccordo, una sorta di scambio di servizi che avrebbe potuto consentire alla società bianconera di apportare miglioria all'impianto di contrada a tempi rossi e quindi di non pagare per qualche tempo il canone d'affitto. Tale scamotaggio, però, dovrebbe essere sancito dal regolamento per il funzionamento degli impianti sportivi. Basterebbe un piccolo emendamento, ma il documento langue nei cassetti del comune. Dopo che era arrivato in consiglio comunale circa un anno fa, è ritirato perché mancante del parere obbligatorio della consulta dello sport. 16 mesi dall'insediamento del sindaco Surdi, ma manca ancora l'importante organismo. L'alcamo quindi ha ripresa a pagare per poter utilizzare il Catella, ma cosa pagano le società sportive? Pagano un servizio che tale non può definirsi alla luce delle pietosi condizioni, fino a stamattina del manto erboso, si fa per dire, dello stadio comunale. Fra dieci giorni i bianconeri dovrebbero giocare in casa, ma per farlo, oltre che l'ok da parte della commissione pubblici spettacoli, bisognerà anche allenarsi sullo rettangolo di gioco. La speranza è che l'alba alcamo possa porre fine al suo perdurante peregrinare sui campi della Sicilia occidentale. La giunta Surdi, almeno per il momento, non intenderebbe assegnare gli impianti sportivi in gestione alle stesse associazioni sportive. Scelte che invece, un po' dappertutto e attraverso appositi bandi e concessioni, consentono alle strutture di essere curate nel migliore dei modi. Le società in pratica ricevono le incommense, ma anche le necessarie somme da parte dei comuni.